oggi recensisco l'album dei comacose del 2022 un modo meraviglioso di salvarsi su richiesta di agostino vecere fatta su patreon in tier 2 richiedimi la tua recensione abbonandoti per almeno tre mesi metti un like a questo video iscriviti al canale per seguire gratuitamente tutti i miei video e poi seguimi in live sul canale viola dal lunedì al sabato dalle 14 alle 16 ero molto curioso di ascoltare questo lavoro incuriosito anche dall'anomala richiesta normalmente non mi occupo anche di musica italiana ma ero curioso di ascoltare questa band su cui ho sentito dire cose lodevoli insomma ho visto e ho letto no persone parlarne bene questo album del 2022 esce dopo pochi mesi di lavorazione è un disco che è stato lavorato in circa 6-7 mesi con i mamacas come produzione e fausto lama che uno dei due comacose l'altra è francesca california il il disco in realtà è un disco abbastanza doloroso da ascoltare e mi dispiace perché quando vedi un quarantenne come fausto lama quindi non esattamente un ragazzino non esattamente una persona che potrebbe buttare via le parole buttare via la produzione poi di fatto buttare via parole e produzione per creare concepire e realizzare un disco simile così pieno di problemi francamente dispiace perché ti chiedi dove stia andando la musica italiana e sicuramente i comacose non aiutano a tracciare una traiettoria che possa essere né percorribile né tantomeno plausibile questo è un disco pieno di problemi pieno di difetti e soprattutto il difetto più grande che si porta presso è il fatto di essere un disco non innovante anzi questo è un disco che prende forse le prerogative peggiori di un certo pop degli anni 80 e 90 lo riconfeziona sicuramente mescolandolo ai trend di oggi mettendoci comunque del rap ma il risultato è sicuramente un risultato purtroppo scadente dico purtroppo perché sarebbe bello ogni tanto invece trovare boccate d'ossigeno all'interno del nostro panorama musicale è un disco che posso sintetizzare in questa maniera è tutto anonimo nulla spicca non c'è nessuna parte di arrangiamento che spicchi com'è l'arrangiamento di questo disco fondamentalmente galleggia all'interno di un synth pop sul quale vocalmente c'è questo cantato piuttosto tradizionale anche lì anonimo di california che sicuramente non ha grandi doti vocali e viene trattato e lavorato questo cantato abbastanza anonimo nella totale diciamo noia di un trattamento di una produzione che non lo fa spiccare in nessuna maniera anzi spicca perché spicca perché mixato ovviamente all'italiana quindi con la voce molto fuori ma non c'è amalgama non c'è coesione non c'è nulla che possa essere affascinante non un delay non un reverbero non un flanger non un chorus nulla che possa caratterizzare il cantato già di per sé poco caratterizzante la stessa problematica tocca il rap se così lo possiamo definire io non capisco perché si dia dignità a questo modo di cantare sostenendo che possa essere in qualsiasi lontano pianeta del mondo se non soltanto in italia che pianeta purtroppo lo sta diventando per la lontananza dal resto del mondo musicale definirlo rap io non capisco come questo cadenzato modo di portare la voce senza flow senza nessun tipo di tecnica ma semplicemente un cadenzato spoken word né più né meno possa risultare interessante o avere l'ardire di essere definito rap è tutto anonimo è tutto generico il pop che loro suonano è un pop generico è un synth pop di bassa lega che riprende sicuramente da alcune cose di battiatiana memoria ma insomma non andiamo a scomodare il maestro e lo miscela con un po di sentori del giorno d'oggi e francamente mi fa male mi fa male perché anche a livello lirico mi aspetterei qualcosa di diverso mi aspetterei dei salti di qualità invece purtroppo si affossa sempre il progetto e si affossa il tentativo dentro che cosa purtroppo nel caso dei coma cose dentro i giochi di parole e questa cultura da post questa espressività da social onestamente abbassa il livello anche quando i concetti e i contenuti potrebbero essere dei contenuti dignitosi buoni ci sono degli spunti a livello di testo che potrebbero essere buoni ma è lo svolgimento e lo sviluppo che purtroppo li affossa in una maniera terribile non c'è nulla che profumi di presente mondiale dentro questo disco profuma probabilmente di quell'odore neanche poi così tanto profumato che è il presente della musica italiana sicuramente non potrà essere futuro non deve essere futuro ed è anche triste quello che viene preso dal passato perché appunto non è il meglio l'unica cosa che si può dire di questo disco è che suoni decentemente la produzione soprattutto della batteria è onesta i mamacas evidentemente non lavorano male con i suoni ma è tutto molto banale è tutto estremamente già sentito non c'è non c'è spunto non c'è niente che possa essere una caratterizzazione un qualcosa che ascolti per la volta per la prima volta all'interno di questo disco e purtroppo la sequenza di canzoni è una delle sequenze credo più dolorose a cui abbia dovuto sottopormi per recensire un disco dalla prima all'ultima traccia di questi lunghi 45 minuti di musica sono 14 canzoni tutto toglie al disco il disco può partire con delle premesse anche interessanti ma l'interesse viene meno già dopo pochi secondi perché perché si inizia con uno questo disco presenta degli skit come nei dischi rap ovvero delle parti parlate recitate ma purtroppo è tutto talmente recitato male e le ambientazioni da bar sono anonime non c'è nulla che spicchi purtroppo sentire un'apertura simile di un disco già toglie credibilità al disco stesso perché pensi di essere finito all'interno di un lavoro adolescenziale pensi di essere finito all'interno di un disco di chi non si prende realmente sul serio non c'era nessuna necessità di inserire questi skit se non per loro ma sicuramente non credo che ci fosse per l'ascoltatore o almeno alzo la mano non c'era sicuramente per me chiamami la prima canzone ufficiale del disco in realtà non è neanche male non è neanche male ma è anonima non brilla e purtroppo solo in retrospettiva ci si renderà conto di come chiamami effettivamente possa essere uno dei momenti migliori del disco il resto delle canzoni sono terrificanti io voglio citare alcuni testi perché ripeto si trovano degli spunti e si annullano gli spunti all'interno della stessa frase odio i motori perché fanno rumore perché portano lontane le persone e perché sono e perché sanno inquinare le prove di un delitto se la vittima è l'amore è veramente un testo mediocre lo spunto non è male pensare che si possano odiare i motori perché i motori allontanano le persone è uno spunto buono ma che inquinino e quindi il gioco di parole le prove di un delitto dove a morire essere trucidato e l'amore onestamente abbastanza triste non migliora la situazione con la canzone transistor che sembra essere purtroppo un triste presagio di questo album nessuna passione nei transistor né sangue né rivoluzione e questo disco è esattamente questo non non c'è sangue perché non c'è calore non c'è nessun tipo di rivoluzione che potresti aspettarti soprattutto da chi magari non ha una giovane età e non c'è nessuna passione perché la passione è soltanto quella di chi questo disco purtroppo si trova ad ascoltarlo si parla di resistenza nella canzone la resistenza si parla di ribellione ma non ce n'è veramente veramente traccia fino veramente al paradosso di ascoltare testi ripeto scritti da quarantenni come tutta colpa di napster molto più delle paste fare rima napster paste lo trovo veramente deprimente se le menti sono guaste quando vogliono musica musica anche qui c'è un'altra parte che francamente trovo incomprensibile il codice fiscale è come un mp3 della tua identità reale per catalogare le anime non ha nessun senso non vuol dire nulla e non senza sono frasi da da post di instagram non c'è nulla che possa avere l'effetto che che non sia quello della frase ad effetto non c'è profondità non c'è spessore ti aspetti finalmente un disco che possa raccontare in qualche maniera l'italia in una maniera migliore invece ci si accorda su quello che fanno gli altri una totale assenza di coraggio e anche musicalmente non c'è nessuna vanguardia non c'è nessun tentativo di rompere degli schemi anzi forse c'è in partenza ma si finisce per entrare anzi per lanciarsi con tutto il corpo dentro le braccia del prevedibile e anche forse del radiofonico che in un certo senso loro si auspicano l'unico momento decente è la canzone sei di vetro che è effettivamente una buona composizione purtroppo è cantata ed è devastata dal cantato di lei e dal cantato di lui e questo è un limite troppo forte sembra veramente che troppe persone si avvicinano alla musica in italia allo sbaraglio senza avere una preparazione dire che fausto della preparazione dovrebbe averla ma a questo punto mi chiedo se lui è uno di quelli che dovrebbe averla chi non l'ha a che livello possa essere i dialoghi degli skit restano per me un qualcosa di inconcepibile tolgono ogni tipo di credibilità non aggiungono nulla sono inutili sono recitati male è è veramente triste ritrovarsi di fronte a un'opera che porta la data 2022 vicino e che suoni così e che sia questo tipo di album e i momenti più dolorosi non sono neanche transistor non napster ma una serie di canzoni che per me hanno rappresentato un dolore francamente all'ascolto foschia credo forse la peggiore canzone di questo disco un pezzo piuttosto sconclusionato con diverse parti musicali lì dove si potrebbe creare interesse si finisce per creare noia e non è un caso che un'altra delle canzoni terribili si chiama i mal di noia che probabilmente è quello che affligge l'ascoltatore malcapitato di questo disco sto mettendo ordine è un'altra canzone terribile calma workout anche è un epilogo appunto interrotto soltanto da sei di vetro di un album che non non dà nulla mai da nessun punto di vista in nessun momento dei suoi 45 minuti mi dispiace doverne parlare in questa maniera ma è deprimente ritrovarsi di fronte a dei lavori e che siano anche acclamati in qualsiasi maniera questo non è un disco che possa essere acclamato in nessun modo chi si intende di musica chi ama musica non può accontentarsi di questo compitino e il mio voto severo perché questo è un disco da quattro spero che possa essere uno sprone per i comacose stessi o anche per chi si avvicina alla musica italiana a non fare il compitino e a cercare soluzioni che siano soluzioni adulte diverse mature rischiose perché non abbiamo bisogno sicuramente di un altro disco così richiedimi la tua recensione a richiesta abbonati a patreon fallo per almeno tre mesi oppure usa il saltafila usando la tier 3 metti un like a questo video se ti è piaciuto fammi sapere che cosa ne pensi ovviamente iscriviti al mio canale è totalmente gratuito seguimi in live tutti i giorni dall'oledì al sabato dalle 14 alle 16 sul canale viola grazie alla prossima recensione grazie a tutti